E' bella raga, questo è lo smasherci e siamo qui con questo nuovissimo video Quest'oggi ragazzi sono qui per portarvi un gameplay di Call of Duty World War 2 Ebbene si ragazzi, torna Call of Duty, torna Boots Underground Adesso vi metto un gameplay di sottofondo, eccolo qui, con il conto alla rovescia ovviamente di inizio partita E voi direte, vabbè, come hai preso il gameplay, Samu, come l'hai preso sto gameplay? Beh, l'ho rubicchiato nel web, l'ho trovato senza commentary, quindi è un gameplay pulito senza qualcuno che ci parla sopra E si possono vedere tantissimi aspetti di questo grandissimo Call of Duty Allora, è presto per parlare perché comunque io sto solamente vedendo, non lo sto provando Però, raga, mi sembra veramente un code cazzo con i controcoglioni Torna nella seconda guerra mondiale Quindi penso che la campagna qui valga la pena giocarsela Perché comunque è un pezzo di storia Cioè, Hitler, Mussolini Comunque seconda guerra mondiale Non mi chiede a parlare di pedecchie E io, che dire di sto gioco? Allora, da quello che posso vedere, a parte la mappa che è bellissima Perché è basata, cioè, in trincee Questa mappa qui Poi, vabbè, c'è un'altra mappa sulla neve Che, comunque, sono mappe che sono ambientate in posti reali Poi, cioè, a me veramente, raga Sta mappa qua mi fa impazzire perché è nelle trincee E è bella, bella, bella Ma poi il movement, raga Il movement, ne vogliamo parlare Allora, è molto, molto veloce Io me lo aspettavo alla God 4, invece È la Black Ops 2 Cioè, è veramente, veramente bello Ci sta, ovviamente, anche il salto delfino Quello che ti butti così Poi ci sta, vabbè, il dropshot molto veloce Da quello che ho potuto vedere O perlomeno standard, se non velocissimo E, vabbè, poi i wallbang prendono bene Da quello che ho potuto vedere E gli accessori, raga, lo sapete che non lo so Perché il gioco, non avendolo provato a Los Angeles Non ho visto se ci potevi mettere accessori o meno alle armi Durante il gameplay che sto vedendo tuttora E che ho visto recentemente Ovviamente da altri youtuber Da Pamage che un po' l'ha portato Anche da Velox E vedo che lui, cioè, il PG Il nostro PG, mette un silenziatore e può levarlo Quindi, cioè, ci sta questo accessorio qua Che può servire, magari, per essere più silenziosi Più furtivi, non lo so, sinceramente Però, boh, ci potrebbe anche stare Poi non lo so, se ci stanno mirini Ma non penso Perché i mirini alla seconda guerra mondiale Mi sa che non c'erano, raga Non penso, quindi, ci saranno reflex O cose simili Ne dubito Vabbè, ci sono le classiche granate Tipo, ci sta anche una granata Che era di World at War Che adesso non mi ricordo Però era fatta, tipo, in buto E quindi, raga, vabbè, sono rimasto un po' stupito Perché, a parte il livello grafico Che mi piace veramente moltissimo Si è migliorata quasi la jumper Infatti, c'è stata fase la jumper Con la grafica Cioè, già da MV3 E da Advanced Warfare Ha portato dei bei cambiamenti Ci sta, ci sta veramente molto Anche perché poi ho visto anche delle streak Che non so se qua le tirerà Che stanno lì a destra, infatti E... Mi piace Cioè, vabbè, ci dovrebbe stare Il solito UAV Poi, vabbè, il controattacco UAV Il... Cosa, l'approvvigionamento E... Le streak, raga, sinceramente Non le so tantissimo Perché ho visto qualche video Qui e là E adesso non lo so, sinceramente Non so se c'è stato l'elicottero Aereo Non lo so, raga Però, comunque sia Pure se le sapessi Rimarrebbero comunque un mistero Perché Ci hanno ancora Più o meno 5 mesi Per... Di sviluppo di gioco Quindi il gioco, vabbè A parte che è ancora in beta Ma... Cioè, c'è ancora dei... Tanti mesi di sviluppo di gioco Quindi potrebbero aggiungere Streak O levarne Quindi non si sa E... A proposito di beta La beta verrà rilasciata Il 25 di agosto Ma... Ovviamente per accedere alla beta La beta è closed purtroppo Quindi Tocca prenotare il gioco Così in modo tale Che ti danno un codice Da ottenere appunto la beta Quindi A parte il fatto che io devo ancora Non le notare Quindi Quando l'avrò prenotato Potrò accedere alla beta Il 25 di agosto Come tutti quanti E... Raga Da sto gioco Che vedevo di Potrei pure lasciarvi An gameplay Però voglio un po' Fare dei commentari Mio E non so manco Se mi stai riusciti Perché fa Come ho detto prima An caldo boia E... Mi aspetto tanta roba Veramente mi aspetto tanta roba Ah e a proposito Ci sta pure I nazi zombie Che devono Presentare Non l'hanno detto Alle tre di Los Angeles Non l'hanno proprio detto Niente I nazi zombie Però Dovrebbe essere una modalità Diversa dal solito Quindi non sarà una modalità Un po' Alla zombie di Treyarch Ma sarà una modalità Una modalità Tutta nuova Inventata da Slejhammer Quindi Se è una modalità survival A me piacerebbe Che è survival zombie Tipo Che mi piacerebbe veramente tanto I nazi zombie E... Non dovrebbe essere male Mi piacerebbe una cosa così Da giocare Sì in gruppo Starebbe Non... Però comunque Zombie di Treyarch È sempre Zombie di Treyarch Quindi vabbè Non si sa ancora niente De sto zombie Però Quando si saprà di più Sarà tanta roba E vabbè niente Poi raga Un altro cambiamento Che fa Un po' forse Storcere il naso Ma diciamo che Secondo me è un po' più pulita È la minimappa Tonda Che a me vabbè Sinceramente non mi dà problemi Perché è sempre la minimappa Magari mollano messa tonda A me Sinceramente mi piace Non ci trovo nessuna differenza Tra una quadrata e una tonda Cioè Ci avrà magari qualche No Boh A me piace Sinceramente piace Poi comunque è da provarla E da vedere Però Sinceramente non mi fa Grandi cambiamenti Ma adesso Stare vendendo il gameplay Penso un M1 E L'M1 di sto gioco L'M1 Garand È veramente veramente forte Questo gioco Penso che sarà una di quelle armi Che vanno usate tantissimo Assolutamente E Non so raga Che dirvi di nuovo Però Forse qualche streak Ho visto che ci sta anche come streak Da prendere Il lanciafiamme Che Non so Non avrà lo stesso effetto Del purifier Di Black Ops 3 Sicuramente Avrà magari un raggio Più corto Sarà fortissimo Sicuramente nei gunfight Perché essendo una streak Dovrebbe essere Alquanto forte Allora ragazzi Vi rubo un attimino 30 secondi di video Perché devo dirvi Due cose importantissime Allora Innanzitutto Su Call of Duty World War 2 Ci saranno Praticamente Delle divisioni Non più delle classi Personalizzabili Ma cinque divisioni Per esempio Uno più specializzato Col cecchino Uno più specializzato Con la mitraglietta Diciamo un po' La Battlefield E saranno modificabili Nel senso che potrei cambiare le armi Per esempio Anziché usare Un STG44 Come fucile di assalto Usi un M1 E così Penso in questo senso Saranno modificabili Ed in più Non mancate Mercoledì Perché dovrà uscire Un bel videone E non vi spoilerò quale Quindi Vi lascio Al video E Raga Sinceramente Non so che tipi Però il gameplay È veramente A me piace veramente Tantissimo Vabbè Qua Loro hanno perso Defecto E niente ragazzuoli Io Che dire Come sempre Vi invito a lasciare Un bel pollicino in su Iscrivetevi al canale Se lo avete ancora fatto Facebook e Instagram Link nella descrizione E spero che il gameplay Vi sia piaciuto Bella Ragazzi